E' stato lasciato al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo nella cosiddetta camera calda, ovvero tra il primo e il secondo ingresso, in gravi condizioni, cianotico e già privo di sensi. Poi chi l'ha accompagnato l'ha abbandonato a terra e se ne è andato. Immediato l'arrivo dei sanitari, ma per l'uomo un 59enne a retino non c'è stato nulla da fare. E' successo lo scorso martedì a stroncare l'uomo, probabilmente l'uso di sostanze stupefacenti, ma per accertarlo sarà necessaria un'autopsia. Della vicenda si sta occupando la polizia di Arezzo che ha già identificato l'uomo con precedenti penali. Adesso le indagini per scoprire chi lo abbia abbandonato al pronto soccorso e quali siano state le cause della morte. Fondamentali saranno gli esiti dell'autopsia che sarà disposta a breve e le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza.